Buongiorno a tutti, ai relatori che adesso presenterò, a tutti voi che siete qui. Questo è un incontro sul tema clima e tecnologia, l'impatto del cambiamento. Forse per prima cosa presento gli ospiti di oggi. Io sono Marina Forti e sono una giornalista, non sono né un'esperta di tecnologie né una scienziata, ma sono una giornalista che ha scritto per molto tempo e continua a scrivere di temi legati all'ambiente e all'accesso alle risorse naturali. Mentre invece noi avremo qui oggi delle persone con competenze molto precise. Allora, innanzitutto, Antonello Pasini, fisico del clima e docente a Roma 3, giusto? All'Università di Roma 3, a cui sarà affidato l'intervento iniziale, il keynote speech. Che poi discuteremo invece in una tavola rotonda, qui con Vittorio Bugli, che però non ho ancora visto, assessore regionale della regione toscana, ma quando arriverà potremo presentarlo. Invece qui alla mia destra Elena Gagliasso, epistemologa, lei è professore associato al Dipartimento di Filosofia della Sapienza a Roma. Marcello Calissi, ricercatore presso l'Istituto di Biorobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna, che tra l'altro ci presenterà il progetto di un robot granchio. Monica Zoppe, che è una ricercatrice del CNR, anzi direttrice dell'Unità di Visualizzazione Scientifica all'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR qui di Pisa, ma che qui interviene oggi in particolare come referente di Lega Ambiente. E poi naturalmente speriamo che tutti voi potrete interloquire. Io dico solo qualche considerazione molto rapida per introdurre questa conversazione. Il cambiamento del clima è un tema che ha avuto momenti alterni di attenzione pubblica. Se ne è cominciato a parlare in pubblico, forse potrei dire all'inizio degli anni 90, è del 90 la prima conferenza dell'ONU sul tema, è del 92 la Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico, un trattato, diciamo un documento a cui hanno aderito 190 nazioni più o meno, e che è tuttora il documento base di tutti i negoziati sul clima che si sono succeduti nel tempo. 92 significa 27 anni fa. Sono 27 anni che di clima si parla appunto con attenzione alterna. Oggi l'attenzione pubblica segna un picco, questo non c'è dubbio, in parte probabilmente perché gli effetti del cambiamento del clima sono sempre più visibili. rispetto al 90, ad esempio. Ma in parte anche, dobbiamo ammetterlo, perché grazie probabilmente a una ragazzina di 16 anni che ha deciso di fare uno sciopero per il clima, grazie a milioni di ragazzi, ragazze giovanissimi, che in Europa, diciamo, non è che il fenomeno sia mondiale, ma insomma, in Europa scendono in piazza il venerdì per reclamare il futuro, a movimenti tipo Extinction Rebellion, insomma, grazie a questi movimenti che magari i militanti di vecchia data del clima o i ricercatori di vecchia data possono anche guardare, diciamo, possono anche trovare magari un po' ingenui, però hanno il merito, in dubbio, di aver riacceso un'attenzione pubblica. E questo in sé è un merito. Io ero arrivata qui pensando, possiamo dare per acquisite alcune cose, che siamo di fronte a un cambiamento del clima, anzi a un'accelerazione del cambiamento del clima, più o meno negli ultimi 200 anni, ma forse in modo più accelerato negli ultimi 100, che sappiamo che questo non è una oscillazione, diciamo, il pianeta ha avuto diverse oscillazioni termiche nel corso della storia, ma qui si tratta invece di qualche cosa in cui è riconoscibile l'impronta umana. Io dico che possiamo darlo per acquisito, però poi in realtà continuano a emergere, anche proprio in questi giorni, in questi mesi, iniziative di negazionismo, diciamo, e quindi probabilmente dovremo poi in realtà rispondere anche a quello. Comunque questa accelerazione c'è. Il punto è che i primi allarmi della comunità scientifica non sono di 27 anni fa, ma di molto prima. sono degli anni 50 e per l'appunto abbiamo alle spalle mezzo secolo di negazionismo. È molto significativa un'indagine pubblicata pochi giorni fa dal Guardian, il giornale britannico, il Guardian, che appunto ricostruisce questa storia di negazionismo, sottolinea che una ventina di compagnie petrolifere o di idrocarburi e del carbone, quindi compagnie per l'estrazione di combustibili fossili, sono direttamente responsabili del 35%, cioè più di un terzo, delle emissioni di CO2 e di metano dell'era moderna. E questo quantifica, però, che i combustibili fossili fossero il problema, lo sapevamo già. Quello che è più interessante è che si scopre da documenti appunto riusciti che negli anni 70, ancora nell'88, rapporti confidenziali, ad esempio della Shell, quindi di una delle maggiori compagnie petrolifere al mondo, dicevano che l'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre è un danno, è potenzialmente un disastro, eccetera. Cioè, diciamo, in realtà anche i negazionisti o quelli che finanziano i negazionisti erano abbastanza consapevoli già tempo fa del problema. Quindi questo è uno dei primi problemi che abbiamo di fronte, il negazionismo, e il negazionismo spesso, diciamo, non in buona fede, ecco, per usare un eufemismo. La seconda considerazione che volevo fare è che parlando del cambiamento climatico e dell'impatto del cambiamento climatico siamo tutti sulla stessa barca, nel senso che siamo tutti su questo pianeta. E però l'effetto, facciamo ora sorvolo, sulle responsabilità storiche che non sono ugualmente distribuite, ovviamente, tra paesi industrializzati, no, ma anche l'effetto, quello che ora più ci interessa, l'impatto del cambiamento del clima non è ugualmente distribuito, non solo tra regioni geografiche, ma tra popolazioni. Se l'effetto, per esempio, sappiamo che uno degli effetti è l'innalzamento del livello dei mari. Bene, alcune zone del pianeta, alcune, in particolare, zone di costa bassa che sono molto popolate, con grandi città, eccetera, sono quelle che subiscono un impatto maggiore. La faccio breve su questo perché invece penso che ci sarà modo di parlarne dopo, però il problema della diseguaglianza di fronte all'impatto del cambiamento del clima è un problema molto serio, anche perché questa diseguaglianza è qualche cosa che produce conflitto. Se l'accesso alle risorse naturali, se l'accesso all'acqua, tanto per cominciare, alla terra, terra che magari diventa sempre più arida e si desertifica, ecco, se lo squilibrio nell'accesso alle risorse naturali produce povertà, produce migrazioni, produce conflitti per l'accesso alle risorse che diventano scarse, ecco, questo è un altro punto che adesso non mi dilungo, è che è un altro dei problemi che abbiamo di fronte e ovviamente è uno dei problemi che rimanda al potere, alla distribuzione del potere, quindi del potere di per esempio controllare i meccanismi dell'economia globale, dei meccanismi, le scelte che vengono fatte rispetto al clima e naturalmente essere più o meno in grado di far fronte agli effetti del cambiamento vuol dire anche essere più o meno in grado di accedere a tecnologia, innovazione tecnologica, a strumenti ed è questo se perdonate queste considerazioni molto generali è qui che arriviamo al punto che vogliamo discutere oggi prima di entrare però nella discussione la parola al nostro ospite per il keynote speech grazie mille allora innanzitutto grazie mille appunto per l'invito sono molto felice di essere in questo parterre io dirò più o meno tutte le cose a cui ha accennato la dottoressa Forti in maniera un pochino più approfondita in realtà vedete il titolo è abbastanza chiaro quindi avrei dovuto in qualche modo occuparmi soprattutto di tecnologia la tecnologia fossile le tecnologie rinnovabili e tra le tecnologie c'è anche internet ovviamente siamo all'internet festival quindi la comunicazione tutto quello che è importante nella comunicazione ecco io questi temi li toccherò di striscio sperando che poi si faccia un dibattito a 4-5 insomma su questa cosa perché in questo momento ritengo più opportuno mettere qualche parola ferma insomma su quello che è il problema climatico veramente i problemi grossi che avremo di fronte le soluzioni e così via insomma quindi perdonate se farò una cosa un pochino più di base allora cominciamo con qualche cosa sui cambiamenti climatici osservati allora oggi noi sappiamo che la temperatura della terra è sempre cambiata perché vedete questa è vediamo se eccolo qua vedete qui siamo all'istante zero nel presente andiamo indietro di 650 mila anni questa è la stima della temperatura fatta tramite dei carotaggi in Antartide quindi vedete oggi adesso abbiate pietà vado di corsa qui perché questo è uno degli argomenti più difficili che affronto il mio corso di fisica del clima però vedete sostanzialmente oggi siamo in un periodo caldo ma non più tardi di 20 mila anni fa eravamo in un'ereo glaciale poi abbiamo avuto un altro periodo caldo 120 mila anni fa altre reglaciali vedete queste oscillazioni quindi queste cose ci dicono che il clima in maniera naturale è ovviamente sempre cambiato e quindi tra l'altro queste carote rappresentano un po' un termometro perché ci danno la stima di temperatura da qui addirittura 800 mila anni fa stiamo per arrivare a un milione e mezzo di anni fa però io vi dirò di più questa sonda geologica che va giù in realtà è più di un termometro perché noi siamo fortunati all'interno di questo ghiaccio che si è andato stratificando nel corso dei millenni sono rimaste intrappolate delle bolle d'aria e allora noi possiamo capire come era composta l'aria da qui in questo caso di questa carota a 650 mila anni fa vediamo che ossigeno e azoto sono più o meno nelle stesse proporzioni quello che cambia è l'andamento di alcuni gas vedete questa è l'anidride carbonica che è sempre oscillato fra 200 e 280 parti per milione vuol dire 200 280 molecole di anidride carbonica per ogni milione di molecole d'aria oggi però siamo a circa 410 quindi questo è un gas che sta in atmosfera vedremo che ha la sua importanza insomma poi ovviamente questo nel passato remoto nel passato più recente abbiamo invece dati di termometri quelli veri quelli a cui siamo abituati perché almeno negli ultimi 150 160 anni abbiamo talmente tanti termometri sparsi per la terra che si può stimare una temperatura media globale vedete qua per esempio questa temperatura adesso mi devo girare questa temperatura sta salendo sostanzialmente dal 1850 oggi con qualche rallentamento di tanto in tanto vedete dagli anni 60 oggi siamo in piena salita se voi andate a fare dei conti rispetto ai gradi che abbiamo acquistato vedrete che a livello globale la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa un grado bene come stiamo in Italia in Italia stiamo così vedete la curva è abbastanza simile però se voi andate a vedere i numerelli che stanno in ordinata vi accorgerete che in Italia negli ultimi 100 anni abbiamo aumentato la temperatura di 2 gradi e non di 1 grado andiamo avanti allora questa è una figura molto importante perché voi sapete che tra l'altro ultimamente appunto questi signori escono spesso sui media c'è chi nega innanzitutto che ci sia un riscaldamento globale diverso da quello degli anni precedenti allora questo è una scusate io ho messo qui una figura presa direttamente da un articolo quindi adesso ve la spiego brevemente altrimenti non si capisce niente cioè questi signori Neocometal e altri colleghi hanno pubblicato circa tre mesi fa su Nature questo importantissimo studio perché hanno voluto vedere questo riscaldamento degli ultimi 60 anni dagli anni 60 oggi come si raffronta ai riscaldamenti che sappiamo ci sono stati in passato per esempio c'è stato l'optimum medievale per esempio c'è stato il periodo caldo romano eccetera e ci sono state anche periodi freddi la piccola era glaciale e così via bene oggi noi abbiamo indicazioni di temperatura tramite metodi indiretti pollini sedimenti lacustri carote di ghiaccio e anelli degli alberi e così via sparsi un pochino in tutto il mondo quindi possiamo capire se questi riscaldamenti che ci sono stati sono stati globali effettivamente oppure no allora vedete che questa figurina qui vi fa vedere i dati rispetto agli anni in cui sono avvenuti del riscaldamento globale recente allora vedete tutto marrone tranne qualche puntino al polo sud vuol dire che il riscaldamento globale recente coinvolge il 98% della superficie terrestre questi altri invece sia il periodo caldo medievale che il periodo romano sono molto più locali sono fenomeni locali meno forti e soprattutto i signori che hanno fatto questo studio hanno visto sono statisticamente compatibili con la variabilità naturale del clima quindi sono cose quando sentite dire è Annibale è la Groenlandia terraverde eccetera eccetera andate a vedere questo articolo perché vi spiega qual è la differenza fra il riscaldamento di oggi e quello di una volta e qui è ovvio perché è così ubiquitario perché perché dipende da un influsso esterno che è ubiquitario la CO2 si rispande omogeneamente su tutto il globo andiamo avanti rapidamente per farvi vedere qualcos'altro qui siamo al polo nord la superficie dei ghiacci alla fine dell'estate dell'84 la superficie dei ghiacci alla fine dell'estate del 2012 vedete tutta questa parte qua non c'è più se facciamo un grafico vedrete che questo è l'andamento in discesa in diminuzione della superficie glaciale negli ultimi 40 anni abbiamo perso 3 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio di superficie ghiacciata al polo nord che voi capite bene è un numero enorme e però quando uno dice numeri enormi di solito non si prende conto allora se noi pensiamo che l'area dell'Italia è 300.000 chilometri quadrati ebbene noi abbiamo perso 10 volte l'area dell'Italia in quella zona al polo nord negli ultimi 40 anni però uno dice vabbè il polo nord sta lassù ci importa fino a un certo punto bene vediamo cosa succede a casa nostra qui siamo al ghiacciaio dei forni allo Stelvio vedete dove è la lingua glaciale nel 1890 nel 1941 nel 98 nel 2007 nel 2050 sarà quassù insomma stiamo perdendo ghiacci dovunque per il riscaldamento globale non mi soffermo su quello che è successo al Monte Bianco recentemente ne potremo parlare ma insomma non è il caso questo allora io vi potrei fare decine e centinaia di esempi di un cambiamento climatico osservato non ve lo faccio perché dico sempre che i dati in sé non parlano o meglio ci dicono qualcosa ci dicono che qualcosa sta cambiando ma non ci dicono perché per capire il perché dobbiamo inquadrare questi dati nella nostra conoscenza teorica di come funziona il sistema e qui ci facciamo una domanda che forse si sta facendo anche lui perché mai mi sto trovando su questo cocuzzolo di ghiaccio e non c'è più ghiaccio intorno qualcuno deve avere acceso il riscaldamento bene chi ha acceso il riscaldamento e beh andiamo a cercare di rispondere a questa domanda è una domanda molto difficile perché in realtà le cose sembrano semplici cioè la temperatura media terrestre della superficie terrestre acqua e aria dipende dall'energia che entra nel sistema e dell'energia che esce quindi il sole ci illumina con la propria energia uno può pensare caspita sarà stato il sole che ha aumentato la sua energia e la temperatura della terra aumenta però in realtà c'è l'atmosfera dentro la quale ci sono quei gas come l'anidride carbonica che voi avete visto stanno schizzando verso l'alto come concentrazione bene cosa fanno quei gas fanno il famoso effetto serra che io chiamo anche effetto piumino perché cosa fanno questi gas cosa fate voi quando vi mettete in inverno dentro il piumino sotto il piumino a un certo punto all'inizio sentite freddo poi piano piano vi riscaldate ma non perché quel piumino sia una termocoperta che voi infilate nella presa di corrente che vi scalda da fuori no quel piumino tiene confinato il vostro calore corporeo bene i gas serra fanno questo più ce ne sono e più la radiazione infrarossa che uscirebbe dalla terra verso lo spazio raffreddandola rimane confinata lì poi i problemi sono molto più complessi come vi dicevo non sono così semplici noi dobbiamo fare dei modelli sostanzialmente perché non sappiamo trattare in laboratorio in un laboratorio reale tutta la complessità del sistema clima il laboratorio è importante spesso una lancia qui siamo nella città di Galileo quindi chi più di lui ha fatto progredire la scienza col metodo sperimentale galileiano perché in laboratorio tu non ti devi accontentare di quello che ti fa vedere la natura puoi fare degli esperimenti metterti in condizioni controllate fare delle domande alla natura e avere delle risposte bene noi questo non lo possiamo fare lo possiamo fare con i singoli pezzi del sistema non con il sistema in generale cosa ci siamo inventati non possiamo fare in un laboratorio reale lo facciamo in un laboratorio virtuale un super computer noi mettiamo dentro tutte le nostre conoscenze teoriche le equazioni che descrivono il funzionamento dell'atmosfera quelli che descrivono il funzionamento del mare i ghiacci la biosfera la crescita delle piante eccetera eccetera le mettiamo in un modello e vediamo se questo modello ha qualcosa a che vedere con la realtà ed è facile vederlo perché dentro il modello ci sono delle variabili non so la temperatura su Pisa che io cerco di ricostruire per esempio nel mio modello negli ultimi 150 anni ma là fuori io ho 150 anni di misura di temperatura su Pisa quindi voglio dire posso controllare che questo modello funzioni o non funzioni allora veniamo a questa figurina vedete qua abbiamo la no deve essere di qua la linea nera è l'andamento della temperatura media globale le linee azzurrine e gialline sono gli andamenti di ricostruzione di alcuni modelli le linee rosse e blu scura che sono quasi sovraimposte sono l'andamento medio degli output di questi modelli allora vedete che in media questi modelli una volta che diamo al sistema i valori osservati per la luce per la radiazione solare le polveri vulcaniche che anche sono un flusso naturale importante le emissioni di anidride carbonica la deforestazione che porta via degli alberi che sono assorbitori di anidride carbonica e così via bene in questi casi i modelli riescono a ricostruire la temperatura media globale però attenzione io sono in un laboratorio sia pure un laboratorio virtuale posso fare degli esperimenti che non potrei fare nella realtà per esempio posso dire ma cosa sarebbe successo se gli influssi umani fossero rimasti fermi al 1860 bene il modello vi risponde così vedete fino a qui sostanzialmente la temperatura riesco a ricostruirla abbastanza bene ma dagli anni 60 in poi il modello mi dice che la temperatura sarebbe stata quasi costante guardate questi picchi negativi sono le eruzioni di El Ciccion e il Pignatubo due vulcani che hanno eruttato in maniera molto forte però vedete praticamente il modello vi direbbe guardate che dal 60 in poi tutto questo riscaldamento globale recente non ci sarebbe stato se gli influssi umani non fossero cambiati questo è un indizio molto importante che l'uomo è in qualche modo fra virgolette la colpa di tutto almeno nella maggior parte però voi sapete prima si negava che non esistesse un riscaldamento globale ora non lo si può più negare si è visto bene che è diverso da tutto il resto poi abbiamo cominciato a negare qualcuno ha cominciato a negare che fosse colpa dell'uomo allora perché perché dice ma questi modelli sono talmente difficili talmente complessi che voi ci fate venire quello che volete oppure in maniera un po' più seria qualcuno dice beh ma lì dentro c'è la vostra conoscenza teorica ma allora se vi sbagliate ma se non considerate qualche processo che invece è importante allora io ho voluto fare insieme a dei colleghi una prova del 9 voi sapete che oggi e qui veniamo all'innovazione all'intelligenza artificiale voi sapete che oggi ci sono dei sistemi che imparano dai dati bene noi abbiamo costruito un cervellino via software un cervellino artificiale che è come il cervellino di un bambino che impara a camminare se voi mettete un bambino che impara a camminare in questa stanza lui inizialmente andrà a sbattere contro i tavoli contro le sedie poi piano piano aggiusta le sinapsi che collegano i suoi neuroni le connessioni fra i vari neuroni e impara le regole per camminare in questo ambiente bene noi abbiamo detto al nostro cervellino noi ti diamo i dati tu impara le regole di come funziona il clima allora guardate cosa è successo molto semplice questa è una vignetta che ha voluto fare la rivista dove abbiamo pubblicato l'articolo vedete qua c'è uno scienziato che ha in testa il modello quello con le equazioni con le nostre conoscenze teoriche questo è un altro scienziato che dovrei essere io in cui c'è invece una rete neurale un certello artificiale allora loro facciamo fare questo esperimento di bloccare gli influssi umani al 1860 anche nel nostro modello guardate cosa succede i due scienziati confrontano i propri risultati si stupiscono wow perché ottengono la stessa cosa cioè anche il cervello artificiale ci dice guarda che senza influssi umani non ci sarebbe stato il riscaldamento globale recente dagli anni 60 a oggi quindi robustezza il modello i risultati sono robusti perché vengono da addirittura tre modelli diversi non ve lo faccio vedere il terzo che lavorano in maniera completamente indipendente o è chiaro che quando uno ha dei modelli validi vorrebbe prevedere il futuro prevedere il futuro è un po' più difficile che ricostruire il passato perché io per le concentrazioni di endroide carbonica la deforestazione insomma devo fare delle ipotesi cosa succederà se la Cina continuerà a costruire una centrale a carbonio di 15 giorni scenario pessimo per il clima ma se la Cina invece virerà a 180 gradi come sembra stia facendo verso le energie rinnovabili scenario molto migliore uno fa queste considerazioni un pochino sociopolitiche economiche su tutto il mondo da un ventaglio di scenari ai nostri modelli e i nostri modelli poverini cosa devono fare tirano fuori un ventaglio di previsioni per la temperatura vedete al 2100 c'è questa temperatura di questo scenario rosso il cosiddetto business as usual che ci porta 4 gradi e mezzo 5 gradi ci sono altri scenari migliori ora questa figurina solo per far vedere non vorrei andare troppo lungo per far vedere che i modelli vi danno in realtà informazioni su tutto il globo come si distribuisce la temperatura in uno scenario buono per il clima in uno scenario più difficile e così via però insomma non abbiamo tempo di andare avanti su queste cose ma allora qui si parla di due gradi in più tre gradi in più molti mi dicono vabbè ma che sarà mai sudderemo un po' di più faremo un po' più fatica a lavorare e purtroppo non è così perché quello che importa sono quegli impatti che questi due gradi solo in più portano sui territori sugli ecosistemi sull'uomo ve ne faccio vedere qualcuno a volo d'uccello e qui siamo a Genova nel novembre 2011 guardate cosa è successo io so bene cosa mi direte Genova è una città estremamente fragile abbiamo fatto cose che non dovevamo fare ci sono dei torrenti tombati sotto la città che come piove un po' di più vengono fuori non mi venire a parlare di riscaldamento globale invece io ve ne voglio parlare perché se voi andate a vedere le temperature del mare in quel periodo nella zona prospiciente al Mar Ligure da cui sono arrivate le nubi che hanno creato tutto questo disastro vedrete che la temperatura superficiale del mare è più alta di 3 gradi rispetto alla norma cosa vuol dire avere un mare con una temperatura più alta di 3 gradi rispetto alla normalità innanzitutto il mare evapora di più ma le molecole di vapore d'acqua sono i mattoni su cui si costruiscono le nubi cosa scende dalle nubi la pioggia quindi più possibilità di pioggia seconda cosa ancora più importante quel calore quello è tutto calore in più che il mare trasferisce l'atmosfera il calore è una forma di energia io dico sempre l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio l'atmosfera fa quello che più o meno noi abbiamo previsto con le equazioni della termodinamica allora per seguire le leggi della termodinamica non può far altro che scaricare violentemente tutto questo surplus di energia sul territorio sottostante con i risultati che poi tutti vediamo questa è una cosa credo interessante vedete qui abbiamo una palletta rossa che va a finire su Taranto lì siamo nel Marionio allora questa è una prova modellistica in cui insieme ad alcuni colleghi e soprattutto Marcello Miglietta del CNR di Lecce abbiamo ricostruito l'andamento di un tornado che ha colpito Taranto nel novembre 2012 facendo un morto e 60 milioni di euro di danni pensate che è finito sull'Ilva allora non vi faccio vedere questa cosa perché quanto sono stato bravo quanto siamo stati bravi abbiamo ricostruito questo tornado la direzione la violenza eccetera eccetera vi faccio vedere questo perché anche qui siamo in un modello e possiamo fare esperimenti noi sapevamo che il Marionio aveva una temperatura superficiale più alta di un grado rispetto alla media del periodo e allora cosa abbiamo fatto abbiamo fatto uno studio pubblicato qua in cui abbiamo cambiato la temperatura del mare l'abbiamo abbassata di un grado siamo stati nella normalità e abbiamo visto che il tornado non si sarebbe verificato semplicemente il tornado ha una soglia di innesco di temperatura per verificarsi ma abbiamo fatto di più abbiamo aumentato di un grado in più questa temperatura abbiamo visto che il tornado sarebbe stato molto più violento ma non una crescita graduale una crescita come diremmo i fisici almeno parabolica più non lineare bene questa è una cosa interessante ci sono molti giovani in platea ma c'è qualche diversamente giovane che si ricorderà il colonnello Bernacca allora il colonnello Bernacca all'inizio dell'estate aspettava con ansia l'arrivo di questo oggetto qua l'anticiclone dell'Azzorre che era un cuscinetto di aria stabile che ci proteggeva dalle perturbazioni che passavano più a nord ma anche dal caldo feroce africano bene adesso questo anticiclone è latitante c'è invece l'anticiclone africano che viene su in maniera molto più forte dal punto di vista termico qualche volta anche di umidità ci dà queste ondate di calore molto molto forti perché arrivano questi anticicloni perché il riscaldamento globale ha fatto amplificare verso nord la circolazione equatoriale e tropicale allora cosa succede questi anticicloni prima stavano stabilmente sul deserto del Sara adesso ogni tanto entrano su di noi ondate di calore poi però non rimangono non hanno la forza di rimanere sempre su di noi qualcuno dirà beh per fortuna se no moriremmo arrestiti non è mica tanto una fortuna perché quando vanno via non è che entra l'anticiclone africano entra l'aria fredda da nord e allora quando entra l'aria fredda e densa da nord si creano contrasti d'aria e si crea convezione molto forte palle di grandine come avete visto bombe d'acqua come le chiamano oggi comunque all'ulvio nilampo e così via quindi anche qui da noi è cambiato il tempo meteorologico perché è cambiato il clima in qualche modo e ancora vedete ne accennava la collega prima gli atolli del pacifico voi sapete che con la fusione dei ghiacci che stanno sulle piattaforme continentali aumenta il livello del mare loro sono destinati ad andare sott'acqua ma ancora questo è un ghiacciaio in Peru nel 96 15 anni dopo scompaiono i ghiacciai non è una scomparsa soltanto estetica ma è una scomparsa di risorse d'acqua ci sono dei posti nel mondo dove non si può fare agricoltura se non ci sono i ghiacciai e ancora questa è la terza frontiera del negazionismo climatico non possono più dire non esiste il riscaldamento globale non possono più dire non è fatto dall'uomo allora dicono ok ci stanno bene queste cose però il riscaldamento globale fa bene perché fa bene perché con più CO2 crescono di più le piante e grazie noi lo sappiamo bene in laboratorio aumentiamo la CO2 le piante crescono di più perché quella CO2 entra dalle foglie con la fotosintesi quel carbonio diventa legno rami foglie ma attenzione a parità di altre variabili hai voglia a pompare la CO2 dall'alto se sotto manca l'acqua per le radici e per assorbire i nutrienti o se quella poca acqua che c'è evapora o evapotraspira dalle piante perché fa troppo caldo e allora vedete ci sono delle zone del mondo in cui probabilmente i raccolti agricoli vanno ad aumentare soprattutto Stati Uniti Europa Canada Siberia Russia perché lì pioverà di più e perché ci sono dei terreni ghiacciati dove ora non si può fare agricoltura che se si deghiacciano invece saranno abili arruolati per l'agricoltura ma nei paesi in via di sviluppo che stanno tutti nella fascia subtropicale e lì mancherà l'acqua la temperatura sarà più alta avremo perdite di raccolti carestie eccetera quindi capite già c'è una differenza fra la produzione agricola del nord del mondo e del sud del mondo i cambiamenti climatici tendono a divaricare ancora di più questa cosa con evidenti effetti evidenti effetti e guardate cosa succede per esempio al lago Chad non soltanto per ragioni climatiche lo dico alzo subito la mano anche perché abbiamo hanno fatto delle cose che non devono fare mungimenti esagerati di acqua e così via però il fatto è che dal 63 a oggi questa era la superficie del lago Chad nel 63 adesso stiamo così un diciassettesimo allora voi capite cosa succede lì non ci sono più risorse i contadini i pastori cominciano a litigare eccetera eccetera il risultato può essere questo esodi epocali migrazioni anche dalla fascia del Sahel dove per esempio c'è il lago Chad verso di noi in questo caso con i barconi e io ho scritto un librino che vi faccio vedere insieme a un diplomatico del ministero degli esteri sugli influssi dei cambiamenti climatici sui conflitti e sulle migrazioni quindi una cosa a cui magari nessuno pensava però noi abbiamo fatto uno studio recente su una rivista internazionale più recente di questo libro in cui vediamo che in condizione pre-primavere arabe quindi quando i conflitti ce n'erano di meno quasi l'80% della variabilità dei flussi dal Sahel all'Italia si può spiegare con dati meteoclimatici e di raccolti diciamo meteoclimatici diretti sull'uomo o sugli animali indiretti sui raccolti vado rapidamente alla fine a chi è dovuto il riscaldamento all'uomo ok l'abbiamo capito ma a quale uomo mica tutti siamo uguali vedete questo planisfero distorto in questo planisfero i paesi più grandi sono quelli che emettono più CO2 i paesi più piccoli sottili sono quelli che ne emettono meno allora vogliamo dare colpa agli africani di questa cosa ovviamente non è possibile e ancora vedete c'è stato e vado veramente verso la conclusione c'è stato un accordo molto importante a Parigi perché per la prima volta praticamente tutti i paesi del mondo hanno concordato su questa cosa se vogliamo evitare i danni peggiori del riscaldamento globale dobbiamo fare in modo che la seconda parte del secolo sia a emissioni zero e questo è un messaggio importantissimo ai politici agli economisti ai businessmen perché si dice guardate che in cascata il carbone il petrolio il gas naturale non hanno futuro se volete fare business dovete farlo su qualcos'altro però allo stesso punto le riduzioni concrete effettive di emissioni sono state poche cose vedete questo è l'andamento in crescita azzurro delle emissioni nel cosiddetto scenario business as usual cioè se non facessimo niente per fermarla questo rosellino è la lieve diminuzione che si ha con l'accordo di Parigi ma la comunità scientifica internazionale ha detto che dovremmo stare al di sotto dei due gradi o di un grado e mezzo avremmo bisogno di queste riduzioni quindi l'accordo di Parigi va emendato periodicamente per essere più ambiziosi allora che fare è chiaro che vedete il 75% delle emissioni globali dipende dalle combustioni fossili produzione di energia industria trasporti e così via c'è bisogno di una transizione energetica quindi c'è un ruolo per la tecnologia le tecnologie nuove e per la politica io dico sempre ai ragazzi di Fridays for Future chi vi dice che potete risolvere i problemi con lo stile di vita vi sta ingannando cioè è vero quello è il primo passo perché bisogna essere consapevoli bisogna essere compassapevoli che c'è un problema quindi cominciamo noi con circuiti virtuosi dal basso di consumo eccetera eccetera ma poi vedete il 25% delle emissioni dipende anche dal cattivo uso del suolo la deforestazione l'agricoltura azioni su quindi qui soprattutto ci sono azioni sullo stile di vita la dieta quello che volete voi recupero di terreni degradati per esempio noi proponiamo di andare a recuperare i terreni degradati del Sahel perché in questo modo facciamo del bene al clima perché questi deserti tornano verdi quindi tornano ad essere assorbitori di energia carbonica e facciamo del bene alle persone che abitano lì perché magari possono instaurare nuovamente un'agricoltura possibilmente non soltanto di sostentamento e così via e quindi attenzione però dobbiamo cercare strategie vincenti su più fronti perché noi siamo abituati a risolvere i problemi come direbbe il Papa nell'ultima enciclica in maniera tecnocratica cosa vuol dire tecnocratico vuol dire che io di solito guardo un problema cerco di tappare quel buco e nel sistema complesso vado ad aprire un'altra falla da un'altra parte invece no vedete noi abbiamo almeno 17 problemi grossi nel mondo ebbene si possono risolvere insieme cercando di non risolverne uno a scapito dell'altro bene vi vorrei lasciare con questa figurina perché io credo che in questo momento a livello mondiale si debba parlare non tanto di uguaglianza questa è l'uguaglianza quanto dell'equità perché l'uguaglianza vuol dire dare a tutti gli stessi strumenti questi tre personaggi vogliono vedere la partita di baseball se diamo a tutti loro uno sgabellino i primi due la vedono l'ultimo no allora perché dare uno sgabellino a quello più alto che dall'assù potrebbe anche cadere e farsi male diamo lo sgabellino di quello più alto a quello più piccolino e quindi sono tutti felici e contenti bene io vi lascio così ovviamente ho parlato poco di tecnologia e di comunicazione spero che poi ne parleremo insieme ai colleghi grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.